Consigliere Camillo D'Alessandro, delegato per l'Expo. Oggi si presenta alla prima tappa ed è anche una presentazione ufficiale della partecipazione della regione Abruzzo all'Expo 2015. Che significa per voi, per noi? Noi volevamo iniziare questo cammino verso l'Expo in un luogo, non solo simbolo, ma dove si pensa il contenuto di cos'è l'Abruzzo e di che cosa sarà l'Abruzzo a Milano. E lo facciamo col mondo della ricerca, con i nostri giovani sparsi in tutto il mondo che si fanno onore come ricercatori o addirittura come docenti universitari, ma non solo nel mondo, ma anche in Italia. Che ci aiutano e ci stanno aiutando a riflettere su che cosa è l'Abruzzo e sulle sue potenzialità. Partiamo da lì, da un'officina storica della Sangritana dove si sistemavano con l'ingegno e con la manualità i nostri treni e che oggi con l'ingegno e anche con la manualità si pensa l'Abruzzo. Lei ha detto che l'Abruzzo ha tante peculiarità, tante caratteristiche, ma non è ancora una meta turistica. L'Expo rappresenta una grande possibilità per l'Abruzzo perché tutto il mondo ci guarda, ma voi come pensate di cambiare questo assetto delle cose? Noi abbiamo una grande ambizione, sfruttare l'occasione dell'Expo che non significano solo i sei mesi che staremo a Milano, ma anche da oggi verso l'Expo e dall'Expo verso l'Abruzzo per tentare di svelare la nostra regione. Innanzitutto i grandi operatori commerciali, i piccoli operatori commerciali a coloro i quali legano la loro preferibilità di scelta turistica ad alcuni concetti come sono la qualità della vita, la qualità agroalimentare, la qualità dei luoghi. Noi siamo tutto questo però non lo sanno, non lo sanno perché nel tempo la promozione è stata limitata, non lo sanno perché una volta arrivati in Abruzzo non c'è un sistema. Noi stiamo organizzando il sistema Abruzzo perché l'Abruzzo quando viene pronunciato nel mondo evochi una sensazione, un desiderio, una speranza. Quando tu mi dicono alcuni amici che sono fuori regione, che sono in America o in altre parti, che quando bevono un vino toscano, indipendentemente se è buono o meno, pensano alla Toscana prima che al vino. Noi dobbiamo far pensare all'Abruzzo e solo se pensano all'Abruzzo anche i nostri prodotti agroalimentari avranno un valore raggiunto. Per essere chiari, se un cittadino nel mondo beve un bicchiere di vino montepulciano d'Abruzzo ma non sa che cos'è quel d'Abruzzo, non darà mai quel valore raggiunto a quel vino.